Ciao a tutti e bentornati a 101 secondi Viola su fiorentina1.com La Fiorentina con Pioli ancora non ha chiuso la trattativa ma al di là di quello che si legge lo farà nelle prossime ore, lo farà nei prossimi giorni c'è già un'intesa totale con l'allenatore ex Inter è chiaro che prima Pioli dovrà rescindere, dovrà prendere una lauta buona uscita dai nerazzurri per questo ha accettato anche un ingaggio leggermente più basso a quello che qualcuno poteva immaginare attorno al milione di euro che arriva a 1 e 2 con i premi perché Pioli spera di prendere dai nerazzurri circa 2 milioni di euro, centinaia di migliaia di euro in più, centinaia di migliaia di euro in meno e chiaramente per trovare questo accordo stanno parlando gli avvocati, stanno parlando i procuratori, stanno parlando le terze parti ma è un accordo che non sembra poi così lontano perché da questo punto di vista c'è già un'intesa di massimo è chiaro se non arrivasse questo accordo l'allenatore dell'Inter dovrebbe rinunciare a molti soldi pur di allenare la Fiorentina ma non sarà così nel senso che queste cose magari ci vuole un po' più di tempo però queste cose si fanno, si trovano gli accordi intanto Pioli sta già lavorando con Corvino nella scelta strategica del futuro Viola dal punto di vista tattico e tecnico quindi nessuna preoccupazione a meno di colpi di scena sarà lui l'allenatore della Fiorentina del prossimo anno a domani un saluto da Marco Dell'Olio